Sanremo 2015 il 65esimo festival della musica italiana che piaccia o no è sulla bocca di tutti presentatore, vallette, cantanti manca allestimenti, fiori e look e in attesa di conoscere i vincitori ecco le pagelle dei Savonesi intervistati ai nostri microfoni mi è piaciuto Nec poi mi sono piaciute molte canzoni quest'anno qualcuna forse un pochino legata alla tradizione qualcuna invece un po' più nuova però per me è un bel festival mamma è più lei quella che guarda questi programmi io la sera preferisco fare altro Albano è unico Albano anche se ha la sua età è un personaggio unico Romina anche lei è sempre stata una star ho visto Sanremo ieri sera e devo dire che mi è piaciuto molto mi è piaciuta la formula di Carlo Conti direi che è un buon festival non mi è piaciuto come cantavano perché erano senza voce i primi cantanti poi ho spento e non lo so gli altri Sanremo è sicuramente una delle date ricorrenti imperdibili un po' per tutti ho visto tutte e due le prime serate mi è piaciuto tantissimo Biagio Antonacci perché vabbè è fantastico Charlize Theron che vabbè è splendida che dire di lei è meravigliosa e poi mi sono piaciuti tantissimo il volo che sono una spanna più in alto di tutti sono molto belle lo trovo molto tranquillo un Sanremo molto tranquillo è un po' di sfarzo negli abiti però diciamo tutto molto pacato dal punto di vista commerciale Sanremo ha un po' perso di interesse rimane più che altro una trasmissione televisiva dei grandi ascolti di intrattenimento ma non dal punto di vista di vendita vera e propria le canzoni insomma un po' scarsi direi non me ne è piaciuta neanche una fino adesso a me piace molto Carlo Conti come conduce mi piace molto mi sono piaciuti come fiorista molto i bouquet di Sanremo molto belli concludere diciamo che sì Sanremo è Sanremo ma Savone è Savona anche come fiori grazie Grazie a tutti